tribù alimentare un podcast di Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini Susanna stiamo per servire un'altra puntata del nostro podcast ciao Susi come stai? Bene tu come stai? Che cos'è questo podcast tribù alimentare? Lo leggi tu? Lo leggo io? Leggilo te. No dici te basta valento Susanna non sei buon provvisato l'ho detto connessioni tra gastronomia nutrizione e cultura in ogni episodio una sfida tra due scelte alimentari sviluppata con un approccio multidisciplinare e quindi oggi i vari argomenti vengono esposti con la partecipazione di esperti al fine di rendere consapevoli preferenze scelte alimentari della tribù degli ascoltatori interagite 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 oggi è pomodori e patate contro patate tu chiaramente io prendo la patata normale Susanna io prendo la patata è proprio vabbè hai ragione hai ragione sei io i pomodori va bene va bene tu prendi nel piatto scusa hai ragione Susanna è vero allora attenzione attenzione sono tre round in totale anche voi potete scegliere la vostra voi preferite pomodori o le patate voi che ci seguite che ci ascolta pomodori o patate che preferite io mille volte le patate io sì io tutte e due tutte e due va bene Susanna vai col gong vai tribù alimentare Susanna vai origini vai i pomodori sono originari dell'america latina probabilmente dell'attuale perù o messico sono stati coltivati e consumati dalle antiche civiltà mesoamericane come pensate gli azzechi e i maia che le utilizzavano appunto in vari piatti e salze invece le origine delle patate sono sempre originale dell'america del sud principalmente della regione andina qui è un pochino diverso spostato quindi rispetto ai pomodori dove erano coltivati da migliaia di anni le antiche civiltà precolombiane come gli inca le consideravano un alimento fondamentale e le coltivavano in diverse varietà non a caso ci sono una marea di varietà di biodiversità ma che dei pomodori stai tranquillo continua con la storia l'introduzione in Europa sai quando fu sì va bene questa scoperta l'america ma non di quattro prodotti pre 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 colombiano e quindi i pomodori sono portati in Europa da primi esploratori spagnoli nel sedicesimo secolo tuttavia insomma all'inizio non è che fu molto gradito è avevano questa forma sospetti inizialmente coltivati come piante ornamentali perché non avevano capito che si chiama pomodoro doveva essere bello maturo per essere buono perché si credeva che fossero velenosi in effetti contiene una sostanza che può far male quindi solo successivamente vennero riconosciuti come un alimento commestibile e iniziarono ad essere coltivati e consumati in larga scala e guarda quello che è successo anche alle patate stesso discorso lo possiamo dire tranquillamente stessa epoca storica spagnoli sedicesimo secolo introducono in Europa inizialmente furono considerate poco più che curiosità botanica e non a caso ci vorrà per tutti e due quasi tre secoli prima che inizino ad entrare nelle ricette scritte e poi parliamo di novel food oggi noi parliamo di novel food e che ci impiegano due due anni neanche per entrare ma di che stiamo parlando vabbè Susanna allora Susanna guarda ci siamo sull'aspetto storico della diffusione mondiale il primo round ti vedo bella bella tosta preparata infatti tribù alimentare allora breve pausa te stai rilassando Susanna te stai ripreparando per il continuo del concetto perché parliamo anche della diffusione mondiale prima sia di pomodori che le patate poi della loro nutrizione ok attenta vai te sei rilassata va beh qualcosa carissimi pomodori o patate voi che preferite storia di tutte e due abbastanza simile ma entriamo nell'elemento della nutrizione anche tribù alimentare ripartiamo perciò Susanna vai quindi dalla loro introduzione in Europa grazie insomma alla scoperta dell'America i pomodori si sono effusi in tutto il mondo e hanno assunto un ruolo fondamentale nella cucina di numerose culture oggi sono un ingrediente essenziale in molte cucine dalla mediterranea all'asiatica e oltre pensate la nostra cucina ferma io ti rispondo quelle patate ma le patate divennero un alimento di base in Europa solo dal diciottesimo secolo direi fine diciottesimo secolo soprattutto in Irlanda e in Gran Bretagna a seguito del dei problemi delle carestie perché poi alla fine l'uomo quando succede una cosa che ti è grave prendi questa che era un nuovo effetto sonoro rifarlo questa scienzialità qui tecnologia all'avanguardia questo sta battendo su due tesi con le mani ok allora aspetta che che ti dico la diffusione soprattutto in Irlanda e Gran Bretagna grazie alla loro resistenza alle condizioni climatiche avverse la capacità di crescere nei terreni poveri nel corso del tempo le patate si diffusero in tutto il mondo divennero uno dei principali fonti di cibo per molte persone nutrienti cosa nutrienti yes perché lo vuoi sapere sempre collegato a questo secondo round i pomodori i pomodori i pomodori e le patate sono entrambi alimenti molto popolari e ampiamente utilizzati in molte cuscine tuttavia hanno profili nutrizionali diversi che li rendono unici per diversi aspetti quindi calorie quindi pomodori le calorie pomodori sono relativamente a basso contenuto i nutrienti pomodori sono ricchi di vitamina c potassio folati e vitamina k e contengono il licopene perché se tu le fai cuocere questo licopene che di solito le vitamine sali minerali vanno ad diminuire con la cottura invece il licopene fa pu 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 si alza tantissimo ed è un potente antiossidante quindi capite che benefici che può portare poi c'è un casino di fibra bello questo molto scientifico è professoressa hanno un casino di fibra ho messo che se ne mangia tante almeno questi fanno un casino di fibra e può contribuire a una buona digestione alla salute intestinale poi idratazione i pomodori sono composti principalmente d'acqua ma quasi come tutte le verdure voglio dire che li rende un alimento idratante e ideale per mantenere i colpi aggiungo invece patate voi che siete a favore dei pomodori delle patate ditelo pensatelo mandate i vostri commenti possiamo dire che le patate hanno un contenuto leggermente calorico leggermente più alto rispetto ai pomodori Susanna giusto per darti un andrì come nutrienti le patate hanno una buona fonte di carboidrati complessi carboidrati vitamina c potassio e vitamine del gruppo b tuttavia la quantità di nutrienti può variare a seconda della tipologia di patate e del metodo di preparazione fibra contengono una quantità significativa di fibra soprattutto se consumate con la buccia poi amido resistente le patate contengono anche amido resistente il tipo di carboidrato che agisce come fibra nel corpo umano l'amido resistente può contribuire giusto per dare dato scientifico che ci hanno passato i nostri colleghi del corso di laurea perché noi chiediamo a tutte le informazioni arricchiamo sappiamo siamo multidisciplinari l'amido resistente può contribuire alla salute intestinale può avere benefici sulla glicemia e sul controllo del preso quindi come confronto pomodori sono significativamente più bassi di calorie rispetto alle patate ci siamo più o meno una cosa Susanna prima del suono della campanella meglio vitamine minerali di uno dell'altro nel nel confronto allora nel confronto ovviamente le calorie del pomodoro sono molto più bassi della patata si i contenuti di carboidrati ovviamente sono più nella patata bene quindi le patate danno più carboidrati e poi il contenuto di vinavine sale minerali in entrambi pomodori in entrambi pomodori e patate forniscono una serie di vitamine minerali essenziali ma in proporzioni leggermente diverse c'è una le contiene in un modo e una le contiene in un altro il licopene del pomodoro non è nelle patate insomma voglio dire no è finito anche questo round e adesso cara Susanna sai che cosa avviene quando noi abbiamo abbiamo degli esperti sei pronta per sentire un altro degli esperti sei curiosa molto curiosa e arriva ci fanno segno eccolo che arriva anche lui allora siamo in linea con Alessandro Circello Alessandro benvenuto il notissimo allora notissimo chef che da sempre sta lavorando su una cucina anche legata al benessere sei un testimonial unicef uniti contro la malnutrizione sei una immagine televisiva di Rai Uno insomma ne fai tante sulla cucina la nostra trasmissione mette al centro due elementi pomodori versus patate e Alessandro Circello che ci dice riguardo a questi due elementi della cucina italiana beh i pomodori sono l'emblema di tante ricette di tradizione più famose in Italia e nel mondo sono a base di pomodoro chiaramente la nostra fortuna è che sia per i pomodori che per le patate in Italia siamo leader per la biodiversità sui pomodori ne abbiamo oltre 100 biodiversità tutte differenti per colore consistenza gusto e l'unico pomodoro che si può trovare anche d'inverno sono i pomodori del pietro che si conservano e perché normalmente il pomodoro parte quelli coltivati sono un prodotto della primavera estate e poi il pomodoro crudo ha tanti sali minerali fa benissimo d'estate invece se lo andiamo a cuocere sviluppa elicopene quindi tutte le nostre gli spaghetti al pomodoro le nostre zuppe col pomodoro cotto hanno anche tante virtù nutraceutiche sotto questo aspetto le patate abbiamo comunque tante biodiversità anche tanti colori adesso l'Italia produce anche delle patate colorate le patate viola ma soprattutto la parte esterna della della buccia della patata ben lavata fa anche bene perché adesso si consumano tanti prodotti integrali va di moda questo ritorno al passato dei prodotti integrali ma la fibra della patata fa bene sia la fibra solubile che anche la fibra la buccia esterna e che è un ottimo elemento proprio per depurativo ma secondo te Alessandro nella nostra cucina più indispensabile la patata o il pomodoro ma sai questo è questione di gusti e il pomodoro potrebbe essere più indispensabile perché è alla base di tante delle lasagne di tanti primi piatti di tantissime ricette che vanno a rappresentare ecco la carbonati la carbonati la matriciana no per dire e tante ricette anche romane ecco le polpette la treffa quindi sono dei elementi che ricordano anche il piatto della domenica quindi il famoso ragù e le patate ovvio che fritte nel mondo tra i dubbi più amati e ovviamente anche tante industrie e quindi hai perfettamente ragione e chi vince la battaglia non lo so lascio a te la parola grande prof allora grazie Alessandro Circello ricordo che da anche fra l'altro federazione italiana cuochi sei uno responsabile anche della comunicazione sei una persona davvero preparata su tutto quello che è il cibo e il benessere e aggiungo nonché testimonial unicef grazie ad Alessandro Circello per essere stato con noi grazie Alessandro tribù alimentare allora Susanna pazzesco il Circello è un grande vero ma te hai sentito quindi lui è favorevole di uno e invitiamo comunque aspetta c'è il ring sei pronta terzo scontucci invitiamo anche i nostri della tribù a seguirci della tribù alimentare e a esprimere le proprie preferenze nei social siete a favore del potato del pomodoro allora prima prego prego col tribù alimentare allora cara Susanna quindi allora andiamo cucina con il pomodoro lo ha già accennato anche il il nostro Circello è accompagnato io per uno chef un cuoco il pomodoro in cucina è essenziale quindi i pomodori sono ampiamente utilizzati appunto per preparare le salse il sugo il pomodoro la salsa marinara il ketchup e tanti altri ingredienti però voi pensate anche alle salse che possono essere fatte no quelle casalinghe quando si faceva le conserve quando c'è ad agosto luglio agosto tutti questi pomodori che non si sapeva cosa farne allora le massaie si mettevano lì in mezzo al campo con la caldaia e scaldavano e poi ci mettevano i pomodori a pezzettini dentro ai barattoli e lì le facevano bollire e poi nella stagione invernale si mangiavano buone allora io ti dico che le patate al forno le patate fritte qui so che sfondo una porta aperta al forno le patate sono spesso cotte al forno o fritte per creare contorni deliziosi come le patate al forno le patatine fritte le patate gratinate e i crocchè di patate per me poesia lo stato pur prego che vuoi dire non te lo puoi permettere di parlare la patata cruda la puoi mangiare ricordate invece il pomodoro sì perché il pomodoro lo possiamo mangiare così semplice com'è amorzi appena staccato dalla pianta ma è un ingrediente importante per le insalate gli antipasti pensa l'insalata che ha presidenza al pomodoro l'insalata greca la bruschetta il gaspacio una zuppa fredda quindi sì però le patate sono un ingrediente comune molte zuppe anche negli stufati cara susanna la zuppa di patate il minestrone aspetta che arriva il goulash perché bisogna rispettare noi siamo inclusivi mancia cruda hai capito è caciucco la patata va cotta susanna siamo negli ultimi quindi cucina regionale due parole te le voglio dire io della patata perché la patata sono utilizzate in molte cucine regionali di tutto il mondo per creare piatti tradizionali unici come anche in irlanda in italia vabbè gnocco frittori che stiamo a ragionare svizzera spagna ma cara susanna quindi questo incontro aspetta che suona che suona la cara susanna è suonata terminato lo scontro chi sarà stato chi è preferito da parte dei nostri seguaci della tribù scrivetelo tribù tribù alimentare io ho l'imbarazzo della scelta tu però pomodoro io patata anche voi la preferenza call to action e magari fate anche un piatto con il pomodoro e con le patate a vostra preferenza condividetelo perché guarda che il pomodoro e le patate insieme possono essere fatte tranquillamente che ci faresti col pomodoro e le patate ma guarda basta lessare le patate farle freddare farle a fette poi fare aspetta aspetta ti diamo i rumori di fondo mi dicono la regia vai 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 puoi fare a fette la patata a fette il pomodoro li metti in un bel piatto e li condiamo con semplice sale olio un po di pepe bianco origano se vuoi è un piatto eccezionale poca spesa molta resa allora dopo questa dopo questa profonda riflessione universitaria di grande spessore siamo arrivati alla fine di tribù alimentare lo ricordo che in ogni puntata noi evidenziamo due due prodotti due alimenti in questo caso erano erano il pomodoro e la patata e quindi seguitici una puntata sempre nuova ogni settimana nei nostri social nel nel canale spotify insomma trovate il podcast tribù alimentare tribù alimentare allora andiamo con la sigla ho capito che non fanno cena vai susanna grazie susanna cutini e io sono alex revelli sorini a se sbagli il cognome te dico scuglia grazie susi tribù alimentare un podcast di alex revelli sorini e susanna cutini grazie a tutti 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 grazie a tutti